Signori ve lo avevamo promesso e oggi giocheremo ad intesa vincente Ovviamente siamo solo in tre perché Marco ci ha appaccato Vogliamo renderlo un po' più frizzante Ma Marco ci ha appaccato come sempre Quindi giocheremo a tre, a turno gireremo E chi è che vincerà? Vincerà la coppia migliore dietro Perché possiamo farlo solo in questa modalità Quindi io direi di iniziare subito Inizio io che devo indovinare Intanto voi siete scarsi Ovviamente tutto si basa sulla sincerità di chi indovina Perché se no non c'è gusto Siamo a posto allora va Questo vuole vincere tutte le challenge No Per fare il record del 2018 Persona squallida, squallida Cosa è? Cosa? Usi? Per? Tagliare Le? Braccia Sega No, era macete Oh era bella però dai Matt come fai? Cosa usi per tagliare le braccia? Non usi la sega per le braccia È solo il macete usi Macete Non Forchetta No Coltello Cucchiaio Bellissima ma la facciai stessa e me la metti in zoom dopo Perché ogni volta che dico una parola alla prima stai così Perché non sto cercando di pensare cosa fessi tu? Succede? Indietro? Nel? Tempo Tutti? Malati? Insieme? Peste! Non è, fine via Tutti insieme Stai imbrogliando Tutti malati insieme Peste mi è venuto Assà Lo? Metti? Su? Facebook? Post? Perché la foto del profilo era profilo Eh vabbè Lo hai su Facebook Eh però non possiamo dire questo Passo Perché? Perché non possiamo dire pesci Come? Spiego pesci vendola senza dire pesci Dove? Lavori? Non Eh Il giro Ci ho capito ma che f***o Eh dai Eh ma perché Andare? In? Los Angeles San Diego Parigi America Parigi Parigi America Viaggiare Palle Non Eh? Ragazzo Eh ragazza Ok Uno Avete ancora due secondi Finché? La Va Barca Grande Non l'abbiamo fatto Quanto è bello Geniale Ho dovuto saltare barca Ho fatto la La coppia Stefania e Luca Totalizza due punti Siete scarsissimi Oh Sei caldo? Bollente Ci tengo Non è Vicino Lontano Grande Sì ma io sono troppo brava a indovinare Daga Non Non È Giusto Sbagliato Ma è sbadiglio Io Non è male Sbadiglio Ecco perché mi guardavo così Era facile Lo fai al mattino Quando ti Eh sega Già dipende chi sei Lo Fai In Inverno Montagna Sciare Sì Grande Quanto siamo? Uno Ah Trenta Minuti Sono Mezz'ora Sì Grandi Due Salvini Ha Tolto La Ha Non lo sa Dillo tu La pensione La protezione Saviano Ho già detto pensione Raga Ciaone Pensione Non lo so Cos'era Era la scorta Scorta Chi È Arabo Ma perché Ha tanti No Ma so Ma mi mettono così con la mano Cos'era Milionario Io voglio vedere chi vuole essere Milionario era Sceicco Lo Fai Con Il Macete Tagliare Amputare Eh va vera Volevo dire braccio Dopo di nuovo Quindi zero Sì Lo Fai Quando Nevica Si può dire No C'è Quando Piove Forte Per terra Temporale Per terra Temporale Il fango Quello che è il cervello Per terra Quindi zero Vabbè ho capito però Non ci credo Eh raga Sta Sulla Merda Mosca Grande Uno Ti Aggiusta La Macchina Meccanico Grande Due Madonna quanto siamo forti Siamo troppo intesi Sì ma forse io so le cose indovino Certo Siamo intesi Noi siamo intesi Dove Ti Metti Quando C'è Pioggia Pericolo Nel Mondo Paura Di qualcosa Portico No Rifugio Quando Non Azzecchi Una Cosa Verbo Sbagliare Sbagliare Sì però l'hai detto No Eh vabbè Sì sarebbe meno uno perché ha detto due parole Quindi prima Prima è sbagliato quindi siamo a uno No no avete fatte due Sbagliate due quindi zero Questo è sbagliato hai detto due parole di fila a te Eh vabbè Il Frutto Verde Peloso Dai Kiwi Dai Dai Puro quanto vacca Ho indovinato per il dai Quando Tu Vai Da Qualcuno Verbo Viaggio Valigia Trovare Ma cosa Il cervello Devi trovare Partire Partire Ah Vabbè andare Partire Trovare Quando vai viaggio Viaggiare Valigia Ma che cara Partire La Copertina Del Libro A Un Titolo Grande Cosa ti hai fatto Eh la prima cosa che scrivi di un video Deformazione Professionale Raga Cinque secondi per Pareggiare Quando Tu Non Hai Un Genitore E dai Quando tu non hai Un genitore Cosa Sei Orfano Ah Non ci vuole C'ho il mio Un secondo Minchia Ce la possiamo fare Siamo a uno No ma due Due pari Quindi abbiamo vinto noi No Quindi abbiamo fatto la bella Eh si Sicuramente l'unica coppia che fa cagare Siamo di M Però il dubbio mi sta venendo Su chi sta indovinando È possibile che i calcoli siano sicuramente sbagliati Ma Spareggio Spareggio tra coppia Stefania Luca E Mette Stefania Cosa Metti Nel Insalata Aceto Olio Condimento Eh vabbè Eh vabbè ma non ti vai finire No Vai tu Cosa Colleghi Al La tv Per Cavo Giusto Grande Cosa Illumina La Stanza Luce Perfetto Cosa Esce Dalla Mammella Della Latte Minchia su esce Sono andato Tutto la merda in crisi La cosa è più banale Ma che ha voglio chi così Siete a tre Metti Quando C'è Sole Fuori Grosso Giardino Ombrellone A Natale Ti Baci Sotto Vischio Impressione Cucini A Arancia Anatro E' troppo forte Quattro Non sapevo quando Quando la fai arancia C'è un giorno specifico Quando cucini Arancia Io ho detto A Era o Anatro Meccanica Però con cucini Cucini Arancia Il Giorno Passo Di pioggia Andrà a giugno Ricontrano l'olice per caso Era fossa Era fossa Tu cosa volevi dire Io volevo dire ai tifosi del Milan Vabbè ma con me stai parlando Infatti speravo che tu dici solo A B Me la collegavo da solo Però hai detto Già mi è nato di credito Non abbiamo più passo Bello E' tre secondi Ah Mel Mel Gibson Mel Ve lo farò passare Cosa Ulcera In tre secondi Cosa faccio Ulcera Mi sta venendo dovevo dire Ma non capiva nessuno Vabbè quanto siete due Tre Tre mi pare Perché sì Abbiamo perso un quattro Beh è facile Se no tu non sei la matematica Neanche lui Sono Andato Ma cosa sei C'è Mille Metri Eh Un chilometro Sì Madonna Ma Qua non è Non avevo assolutamente capito Cosa volessi dire Ma tu hai Intesa di merda Sono andato in mille metri Lui mi dava i pugni Su mille Cosa devo dire Garibaldi Fu ferito in una gara C Giochi D'estate A Briscola Carte Sì Ma stavo dire Ci sono da gioco Sarato solo d'estate ragazzi Giocare a Briscola Mi raccomando Di vero Non fa male Fa male giocare a Briscola C'è Un Re E Una Regina Quindi Stato E Inghilterra E' una monarchia Ah E beh c'è Una regina In Inghilterra Ci sono Stato Mi ha detto Stato Inghilterra Non E' tramonto Alba Sì Quando Sì Riempe Di Pioggia Tombino Participio Passare Presente Allagamento C'è La cosa scandalosa Che lo preda Perché ho capito Il verbo E' lì Che c'è Qualcone Vedi Perché vincete Voi due Guardate Cosa vi tiro fuori Allagamento No Voi siete Tre Tre Pari Avete Però Undici Secondi E due Pazzo Beto Se te la giochi Bene L'hai vinta C'è Con Fedez Che Protezione Quando Esce Finito Dove Indovinare Cosa volevi dire Tu C'è Con Aspetta Aspetta Posso Indovinare C'è Con Fedez C'è C'è Quando esce Quando esce Protezione Bodyguard Eh vabbè Guardia il corpo Abbiamo vinto Ha vinto la coppia dietro Però Che cosa ha tirato fuori dal cilindro Cosa Un'anatra I conigli non ce l'abbiamo Allagamento Un'anatra con l'arancia Quello è che ho indovinato Alla fine A tempo scaduto Potevo benissimo farlo stronzo Allora facciamo così Signore Scrivete qua sotto Secondo voi Chi ha giocato meglio Bravo Mi piace Cioè che il fondo è stelo Bannerò da questo cavolo di canale Scorta Stela peggiore Non è vero Ma non sapevi mille metri chilometro Ma non sapevo cosa intendessi Dammi un attimo per capire Però fa gruppo ragazzi Ogni volta che dicevo Cosa Lei era così Iscrivete al canale del suo sito Lasciate un like Commentate come non mai Ma soprattutto Come Si Chiude Un Video Degli H Matt E E Wee Allora Scrivete sto nome Scrivete Grazie a tutti